Oggi importante conferenza con la stampa ma anche con i conquilini di Via Longo. Cosa chiedete? Dopo tutte le affermazioni fatte dal sindaco, dall'assessore, durante le commissioni, poi alla stampa, noi dobbiamo confutare innanzitutto le affermazioni fatte dal sindaco. Non è vero che gli interventi di manutenzione ordinare e straordinaria fatti agli inquilini sono stati fatti senza autorizzazione perché abbiamo lettere di autorizzazione per un ripristino totale, dai pavimenti agli impianti elettrici, autorizzate dal lente. Quindi prima confutazione. Secondo confutazione il sindaco ha detto che le case non possono essere vendute agli assegnatari e invece non è vero, viene una legge regionale del 2015 che disciplina tra l'altro una legge, tra l'altro a vecchia del 1993, una legge statale del 1993 e quindi potrebbero essere venduti agli assegnatari questi appartamenti. Questa è un'ipotesi che fino adesso non abbiamo sollevato perché a noi preme soprattutto mantenere il carattere di alloggio sociale quindi se fossero vendute ai proprietari perderebbero chiaramente questo carattere. Quindi questa sarebbe un'ipotesi subordinata a quella principale che è quella di mantenere in loco i 96 alloggi popolari. Ma davanti alla intenzione del sindaco e della sua amministrazione di proseguire lo svuotamento degli alloggi per abbattere, per non si sa fare cosa, dato che non esiste più neanche un minimo di progetto, allora chiediamo che se proprio dobbiamo fare un'operazione così di smantellamento della loggia sociale per prima cosa le destiniamo alla vendita agli assegnatari in subordine, poi in secondo luogo potrebbe avvenire una gara pubblica per i rimanenti appartamenti, tra l'altro con i soldi con i cui proventi l'amministrazione potrebbe comunque ristrutturare gli appartamenti presenti. In che modo procederete quindi? E adesso abbiamo preparato una lettera che invieremo firmata da un centinaio di persone tra gli inquini di Via Longo e gli sloggiati degli alloggi Ater che hanno perso la casa per il terremoto che chiedono quantomeno di non sottrarre al patrimonio dell'Ater le case per dargli a Codiglia Longo e comunque potrebbero anche e comunque chiedono anche di poter temporaneamente usufruire delle abitazioni vuote di Via Longo. Quindi c'è una lettera sottoscritta che invieremo al Presidente della Regione, a Ernani, a Curcio, alla Prefettura per sollecitare un intervento che fermi, come dire, stoppi questo arbitro di questa amministrazione quindi un intervento per ripristinare questi alloggi e se possibile destinarli anche agli evacuati da terremoto da abitazione inagibile. Chiediamo quindi comunque un incontro singolarmente con ognuna di queste autorità speriamo che avvenga in tempi brevi, cioè diciamo che ci aspettiamo entro i primi settembre una risposta altrimenti faremo altri tipi di manifestazioni, altri tipi di proteste diverse da questa richiesta. Quindi vogliamo avere un incontro per discutere della situazione. Al Sindaco ormai non è assolutamente più un interlocutore, quindi questa lettera sarà mandata solo per conoscenza perché il Sindaco ormai ha dimostrato di non avere più alcuna competenza né morale né di legittimità.